Ci abbandoni a mente episodio? Va bene E allora hola 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 The Barrow E da tra poco vado a letto bronzo Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Random Power la serie registrata a caso con persone a caso che potrebbe avere un senso ma invece un senso non ce l'ha ma salutiamo Vasco Rossi ciao Vasco neanche per sogno no infatti piuttosto mi martello le palle da solo bene cominciamo l'episodio è esploso cominciamo l'episodio in scioltezza attenzione a quanto Max si è contenuto in questo momento zen ragazzi zen io sento la rogna fino a qui sento un profumo di qualcuno bene volevo un modo per tornare a casa direi che l'ho trovato dio dio ma puttana ma quanti colpi vuoi per l'inbocco proprio la carugna mi sta distruggendo tutto questo mi sta distruggendo tutto bene avevo anche il piccolo ah però c'è il vulcano spento che mi fa da dicevamo benvenuti in questo nuovo episodio prima che esplodessi come un demente di random power la serie farcetta di negri messicani bestemmie e jolly che ci canta rannina nanna è ovvio ecco ergo salutiamo le persone che stanno facendo parte di questa registrazione as usual salutiamo il signor giollaccio bella riga salutiamo i kimotors brum brum io non ci sono mai stato di nuovo i messicani fanno uso dell'omertà perchè così gli piace e salutiamo logicamente il signor babbone ma perchè ci devi rubare il saluto cazzo vabbè scusami se so spagnolo e so dire ciao in spagnolo scusami hai ragione si in effetti boh va a fa culo allora eh afq2 secondi grazie kimoto per averci avvisato dunque perchè ci sono dei perchè qui c'è del ferro che si mischia ad altre cose pinno ma fa culo però va soltanto nell'ultimo quindi sta funzionando in teoria sei sicuro? ma che viene giù lentissimo ma io tipo non avevo da pinna pinna infatti secondo me non funziona molto bene questo sistema selettivo pinno mi sa che è molto brume molto randomico bene adesso vado a velocizzarlo un po' io queste drain rack dubito fortemente della loro efficacia pinno poi non so sto desforestando l'impossibile allora vediamo dato che se la Gregatech come si fanno i panini con la red power baserator compressor ah no eccolo però shaped crafting ah no 3 il pane clamorosamente si può fare ah però aspetta ho visto anche un'altra cosa con il dunque vediamo un po' se effettivamente è vero ciò che ho letto si può fare anche la farina e l'uso della farina è di fare il pane quindi da 5 adesso ne mettiamo mi dispiace per il 4 bel volo da qua non ho idea di che cacchio stia succedendo adesso do una controllata sto laggando in una maniera atomica dimmi ma buone eh se sapessi dove sono io potrei azzardare affare in culo eh rischio la vita ogni nanosecondo diciamo eh meno male che tu la rischi e basta io l'ho persa e basta più che dire mi spiace per te eh potevo stare più attento la vita una merda no 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 sono io che sono coglione ma non ho prestato la dovuta attenzione dimmi ma buona qual è il tuo problema niente mi sto prendendo a scherzi con uno zombie perché uno storpio dietro com'è che sei rimpita di zombie e ping madonna che finimondo che sta venendo fuori allora io provo a usare la logica ah 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 fuori vabbè sta piovendo che dio la manda e quindi chi se ne frega ma secondo me le drain rack funzionano solamente in posti soleggiati quindi non sotto queste foglie di merda qui ci sono altri due creeper saluto e uno uno è saltato ho sentito e due ho sentito due esplosioni e sono appena tornato eh hai capito appena tornato si ma ragazzi prendiamolo vetto mamma mia ma che cattiveria dc sicurezza lancio brutto anzi non mi tengo ok non ti hai troppo rotto dito sono poi implodi no 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 dovrei farmi una spalla eh la gente che si droga eh eh tua mamma si droga avevo anche la mia maglietta rosa pinno culo ikimotors noi non abbiamo ancora niente per moltiplicare i i cosi vero? i panni e i pesci i panni e i pesci i panni e i pesci no 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 ancora per il momento c'è c'è sta grinding stone però non ho idea di come funzioni ops penso di aver rotto sarà una lunga nottata penso di aver rotto qualcosa pinno eh dunque come te lo spiego erano degli stecchetti che stavano sopra una cosa che in teoria serviva a grindare le cose ah ma si è una puttanata come si fa? eh tipo fai una L rovesciata cioè nel senso fai la L in alto a destra nella crafting table con gli stecchetti in alto a destra apply energistics xxx eh però mi sa che non ho gli stick giusti eh spedale ci provo io non riuscite a dormire no non abbiamo la lana aspetta gli stecchetti giusti guardiamo un po' crafting table è così Max eh e te non riesci a vederla adesso aspetta te la faccio vedere di qua guarda metti così ah così tanti stick ok ne avevo messo uno di meno tutta si la tutta la L e io invece avevo messo solamente tre stick ok vado qui e che ti dà un po' di roba che vado a letto eh daire a Max che io sono alimentare un po' in te pieno vieni Max come si gira questa cazzo di levetta tra l'altro? la tieni schiacciato col tasto destro? l'ho fatto e si è esploso e le mani nucleari è esploso perchè non c'è niente dentro ah adesso sappiamo qualcosa in più bene ora che mi hai riempito l'inventario di Charmabep di dove vado ragazzi? ah si allora facciamo come l'altra volta che adesso tipo croppiamo qua e facciamo il tuo saluto che lo attacchiamo alla fine va bene? posso inflarmi un microfono nel noso? certo che puoi ok bene ciao Max mettici le due cose qua sulla verso ok l'ho ritornata ed è esplodata questa formalità cosa devo fare io qua c'ho dei tin ore se io li butto dentro e tengo premuto con il destro si grinda ciao a tutti si ciao pinnolo ciao pinnolo sembra piuttosto noioso eh è alquanto noioso anche perchè ne hai solo grindato uno per adesso bene ok immagino che adesso praticamente croppo il video fino a quando effettivamente non ho cucinato tutti e 64 i cosi perchè altrimenti la gente magari si disescrive non ne abbiamo voglia a tra poco bisogna smettere di sopra no? stai zitto a tra poco user in il tuo channel time down sono giusto prima perchè pensavo eh ma magari c'è eh eh esatto non sono a suo livello fa cagare allora e dunque ben ritrovati ho finito di grindare la tin adesso e ci ho messo qualcosa come un quarto d'ora tipo solamente qua cliccare con sto cazzo di pulsante destro su sta macchina talmente ecco ci ho messo talmente tanto che la gente tipo ha quittato in massa e si è andato a dormire perchè stava male oppure chi ha a farsi le ranked insomma sto server adesso è semi deserto quindi per cui io direi che taglio il video qua e ci sentiamo in un momento migliore nel quale praticamente siamo un po' più gente siamo meno scazzati e soprattutto io posso urlare perchè in questo momento c'è il vicino che dorme e mi seccherebbe insomma disturbarlo non il vicino il coinquilino d'accordo? quindi per voi ci vediamo tra pochi secondi per noi non lo so quanto ci mettiamo e quindi beh non so cosa dire direi a tra poco giusto Ikimoto? addiooo la corrente infinita Ikimoto la corrente infinita e non ce l'ho ancora aspetta la corrente infinita aspetta come si elettrifica? tesla staff porca puttana porca puttana ahahah ma sono quelli rossi i 7 deficienti elettro creeper si sono elettrificarlo più che altro cazzo con un fulmine caga un fulmine e come si caga il fulmine scusa per fare un fulmine beh sta tesla ma no ma non per taff e si usa tesla devi caricarlo di elettricità eh è carica aspetta aspetta che arriva la corrente infinita no ma è carica fammi vedere come si usa tesla staff corrente infinita forse così semplice eh sai come è simpatico sto sorride sempre eeeh no è una batteria infinita quella che c'è qua dentro eeeh ah fai vedere se funziona ahhh poccatroia ahhh cazzo ero full vita tipizzami è la prova più usata stasera tipizzami non si carica lo stronzo porca troia come avete fatto a caricarlo l'altra volta? con la bacchetta della towncraft quella che ti infili di te entro il culo ops mi sa che qualcuno ci era andato troppo vicino no 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 perchè quando sta per esplodere eeeh se quando sta per morire esplode ah in qualsiasi caso? si vediamo cosa ci può essere per elettrificarlo ma oh perchè noi non abbiamo la towncraft quindi a sto punto eeeh no non ce l'abbiamo ancora dun 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 ma salutiamo Miles il maggiordomo della tata ciao Miles what? non hai mai visto Miles il maggiordomo della tata non sai chi è? si 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 avevo dimenti dopo chi era è un figo si lo so che è il lanciaboccetta è quello di zolli lanciaboccetta che cazzo mi è arrivato contro? lanciaboccetta io il massimo c'ho le uova dai facciamo un attimo visto che siamo in tre su qua anche se c'è Max che non c'entra niente ma lo facciamo andiamo a partecipare ma in tre su quattro di cosa? la sezione esplosive e bestemmia di TMP2 no sarebbe il nostro progetto il progetto che siete in quattro quindi c'è quindi tu tarf jolly e ma ba? niga 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 ma perchè sei diventato invisibile allora piantatevi giocare con quelle cazzo di pozioni jolly c'è un elmetto con un paio di pantaloni che vanno in giro lu mettiti gli occhiali tarf mi guardo i piedi e non ci sono tarf 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 ma perchè non posso voltarmi un attimo tarf 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 tutto questo è profondamente ooooooooh oeeh che cosa mi son perso ho sentito un'esplosione a casa non so ma mi sa che vede anche la versione invisibile sto coso eh sì dove sei maxo perché ne sto facendo sponare un altro beh non lo fare metti che me lo stai sponendo proprio dritto dietro del culo chi è questa batteria in cammina rieccolo ma guarda come cazzo mi insegue oh ma vaffanculo no 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 ma nooooo ma noo ma noo no nooo mo no 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 ahhh jolly vaffanculo meno male che hai rinacqua e hai tutti i tuoi danni fantastiche river invisibili tu sai dove pori mettere ma cosa cazzo l'ho seguito si dà lo spawn e l'ho buttato giù ma quanto sei demente surf cosa c'è di peggio di un creeper avanzato due creeper avanzati un creeper avanzato e vi so dove sarà mai questo creeper avanzato io vedo una tnt dietro di te oh che rischio oh 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 io sento cose che esplodono gente che muore no non è morto stranamente merda minchia che volo una massa di coglioni eccolo lì il secondo l'ha preso cos'è che dicevi Iki di provare a fare se jolly ce lo fa fare no non se ce lo fa fare no sono in creativo tranquillo metto a posto io no dimetti fare un piano d'azione come diceva lui di cosa fare e cosa non fare giusto jolly jolly che cazzo ha due archi questo? dat ricorda che due archi non fanno una volta tarf cosa vuol dire mido tu che sei messicano? non ne ho più pali di idea non sono così colto ed erudito no si vedono gli archi cazzo che testo l'ha preso ignorante il crever è il coso qua io vorrei far spawnare questo però ho paura di crash al server vai 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 ai 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 a a a a a a e t ce la faccio ce la faccio cattiva minchia e non è una cosa più cattiva iperbossi invisibili non rendi di nuovo visibile per favore gali raccomando di nuovo visibile mh ah eh eh non si prende neanche i danni non si prende neanche i danni si ma che cazzo qui i canyon non sono canyon sono tipo scusa 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 crateri questa è una palude mi sono al server? eh mi sono al server si sce 2000 mi sono al server mi sono al server l'errore si da sce e e sce mh e che cazzo avvenevole Dovresti fare il mantenuto Con che poca convinzione l'ha detto Caro Jolly Illuminaci sulla tua filosofia di vita odierna Cosa hai fatto oggi? Cosa vuoi sapere? Non lo so, tipo cos'è che ti ho appena visto fare Mentre sono entrato nel server Non giocavo Minecraft Si ma che Mi sa che sono di fronte all'oceano Che palle, la vita Ah ma a te non hai crashato il server Ma che cazzo crashato il server Sono mica coglione come voi Quando vedo che fate stronzate io cambio chunk Eh Ciao Dan Ora c'è un creeper boss Nascosto nella map Che la prossima volta di Rai Bella raga Sono Jolly Benvenuti a questa seconda parte Nell'IVQ Esatto Vedi tipo Vedi tipo dal nostro spawn Questo fungo nucleare in lontananza Di cui nessuno sa spiegare l'esistenza Eh E' stato Jolly Allora Oh cosa sono quelli Shrub Quindi cosa devo fare Devo togliermi Devo uscire Devi prendere le cose E infilarti Le dritte dritte Dentro al culo Oh 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 random moment 51 Che cazzo succede? Episode 151 in random moments Ah ok 3 Eh E' di conflagge Lo devo vedere Oggetto a caso che fa cazzate No No La deciduus forest Magari c'è mappa in mezzo No c'è un ermibus Bene Tra poco Questo video diventerà interessante Porca troia Ok Redwood forest Quindi qua ci sono Le sequie giganti E notte Jolly preparati a tante bestemmie Perché? Perché io sono di notte Dentro una foresta Di sequie giganti E non vedo un cazzo E non ho strumenti Per trovare a casa Se non il mio fallibilissimo Senso dell'orientamento Jolly Perché mi è tipo Teleportato in questo posto Mando dimmi Dimmi Vimbor Vimbor Dimmi Ah che cazzo Perché mi si aprono Distese di merda Allora Ma siamo nella stessa piantina Di prima Hai trovato la montagna Che ci servirà Forse sì caro Jolly Forse sì E cazzo Cazzo immensa Questa mappa Cosa sono le islands Queste Oh cazzo no Quello è uno scheletro Però Non sono le islands Bene Bravo Ikimoto Quanto grosso L'avete fatto Quel buco Ragazzi No Mi sono ucciso Per allontanarmi Velocemente Dal creeper gigante Ah Così non mi crashava Di nuovo Ma vuoi che ti riporto Qui a casa Max No Cioè Aspetta Se Quando comincio a urlare Bestemmiare Allora vuol dire di sì Dimmi se devo prepararmi subito O più avanti No 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 Oh cazzo Pochissima fame Tra l'altro Ti do le coordinate Allora Grazie a Resport Saranno gradite No no Ma tranquillo Porca puttana Cazzo Io devo salire qui sopra Jolly Fai slash kill Così ti allontani subito Dalla zona Come ho fatto io Perché? E perché magari Si blocca di nuovo Il chunk Con quello creeper gigante C'è più C'è più 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 C'è E' ancora invisibile No non mi spunta la cosa viola Quindi non c'è più Cazzo vuol dire che mi ha seguito Oh merda Max scappa Beh se non vedi la barra viola Non c'è Eh 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 Madonna Che razza di travel Che razza di travel Che sto facendo qua ragazzi Aspetta Vimbor Che qua è questione Di figa O di morte Oddio Che cosa fai No Perché mi hai Teleportato O si O si Ma cosa Ma questa qui Allora L'ho portato un po' più in alto Ma per C'è allora Ma eri dove ero io tipo E sono Tu eri qua Che stai salendo da questo lato Come un cretino E io T'ho teletrasportato Qua sopra Ho capito Ti ringrazio molto Per questo tuo salvataggio Ora Dove cazzo è la casa Nostra Eh Ma poi Faccio slash kill No 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 Basta Slash kill Ma c'è tutti quanti gli oggetti Che cazzo slash kill Jolly Slash kill Ma baffanculo No io faccio slash kill E poi ti teletrasporto di là Ma però Slash kill No 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 C'è un ospite verde Lungo uno spinaccio Cazzo Slash kill BAM Altro carbone Per quel negro Di mamba Ma se tu sei invisibile I mob ti vedono Sì Quelli cattivi Abbiamo provato di sì Cazzo Allora Io ho trovato Io ho trovato Un compless Megalitico Verso 600 Stai zitto Che non so scrivere Verso 630 486 Clic Robbe dure Posso fare anche la domanda? Dimmi Cosa devi farci sulla montagna Per curiosità? Cioè È il nostro progetto Ma mica te lo vengo a dire A te che sei messicano Poi me lo rubi Insieme alle macchine Con le sospensioni Sotto palla blu Ovviamente Avevamo già il nostro Comunque Ah sì? Vediamo chi sarà Il progetto Più progetto Il mio è Progetto Più progetto Perché siamo Io e Mappa Da una parte E poi abbiamo anche Il pezzo in comune Con Tarf e Jolly Noi siamo Berrofronzo Rispart Cleveri E la patata A far che? È il nostro progetto Io tipo sto facendo Impazzire Vimbor Perché gli apro E gli aiuto La porta Da invisibile Che stupido Non capisce Cosa sta succedendo Povero Vimbor Non giocare con la sua Fragile mente Già è stupido di suo Senza che lo rincoglionisci Anche te Sono entrato In una nuvole Di smog Perché i vostri Macchinari di merda Hanno già prodotto L'inquinamento Ma quanto cazzo C'è? Oh Ma sto posto Immenso Che merda è? Sono le Alpi Mi sa Sì infatti Ma tipo Tra le cozze E le graie Siamo C'è anche una Micro valle Incantata Qui in fondo Sì Dove sta andando a fuoco Del simpatico legno Salutiamo il legno Che va a fuoco Ciao Ciao fuoco Ma da 1 a 10 Quanto sarà grande Il tuo progetto? Anzi Diciamo Quante G Si saranno Nel tuo progetto? Nel mio E' quello Di In quello Di Maba 4 o 5 Ok In quello Che facciamo Insieme a Jolly E Tarf Penso che Arriviamo Anche sui 10 Eeeh Quanto può essere Grande Jolly Confermi Più o meno Le dimensioni Del legno Eeeh Vabbè Il mio Quello Di Maba Lo sai Di Che cazzo Ridi Coglione Sta guardando La porta Così Ma che cazzo Sta succedendo La smetti Non ha capito Mi stanno arrivando frecce Dai Io cazzo Tipo mi 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 Random Oh Oddio Grazie Signore Possiamo Dormire Jolly Possiamo Dormire Io sto Dormendo Beh In una maniera Assolutamente Pulita Grazie Jolly Per aver Confermato Che questo Server È un server Serio Di collaborazione Dove la gente Non fa troiate Siamo in due Ad averlo fatto Ma Dio Ma quanto Siete Stronzi Tutte Due Ve l'ho schippato Un giorno Ma insieme Lo fate Un grammo Di dignità Non ce la fate No eh Che schif Dei 170 E subito sotto Dei 171 Secondo me Mi fate cagare Poi bu Tu dici Ah Ma senti un attimo Ma E Allora Per fare Un cavallo Ci vuole Un cavallo Per guidare Un cavallo Ci vuole Una sella Ma non ci vogliono Anche Le sbriglie No Penso abbiano Fatto All inclusive Tipo All inclusive Che bello Quindi ti danno il cavallo Chiave in mano Insieme alla sella Capito Stavo pensando Anche la stessa cosa Che meraviglia Eh Nel vostre menti Che corrono All unisono Verso L'assoluto Cazzo Dov'è il cavallo Che avevo lasciato Qua Penno Penno C'era un cavallo Che vuole Perché dovrebbe Crasharti il mondo Perché Io ti ho spedito Da Inboard Scusa No Tu mi Non so Io Sono dove volevo essere Quindi Non mi rompere Le scatole La cosa bella È che sulle foglie Di quest'albero Qua Gigante Si guys Adesso Nessuno mi ferma Porca puttana Sì Sulle foglie Dell'albero gigante Non spawnano i mob Però spawnano sotto Per Sì Perché Ho trovato Un anfratto Praticamente Dentro le Dentro le foglie Dentro le foglie Ho trovato I buchi Praticamente Dentro le foglie Dell'albero E non c'erano I Non ci sono i mob Che bello Cavalcando scavi Tipo Un quarto Più velocemente Rispetto a quando No Vantemi uscire Da sto recinto Di merda Perché non si esce Da recinto Jolly P Vai Verso la libertà Don Diego Della Vega Della Vega Della Vega Della Vega Mentre Mabba è Don Diego Della Vega Che è un'altra roba C'è un'altra roba Che è un'altra roba E' un'altra roba Che è un'altra roba Ma porca puttana Perché vedo i cavalli che volano Jolly 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 eh uiiiiiii caduta libera ho detto caduta libera no ma pfff povero cavallino non c'è fatto niente cazzo che stallone da battaglia mica piselli bene bravo gofredo ti sei comportato bene andiamo a se reggia uiiiiiii no non regge dov'è max che non lo vedo basta non voglio fare esperimenti guardatemi dalle palle i picchiata uiiiiiii ma scusa che cazzo devo si spiaccicata imbecile ma ma ti rendi visibile gialli che non ti vedi beh se è invisibile è normale che tu non lo veda jolly mi sono milk giustifica la tua rincoglionaggine uiiiiiii che stupida capra tu sei rob che stupido nome bisogna sfoltire sto cazzo di albero gli diamo fuoco almeno non c'è ombra non mi spawno il mob sotto le palle ma messo 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 max chiede io procedo ma no no col flittestino col flittestino e come con lancia cazzo fiamme e dagli di flammen werfer c'è un lanciafiamme in questa cazzo di mod non c'è un flammen werfer non prende fuoco non è posse fammi venire a provare non mi fare mentre sei per aria ma fammi venire a provare ah no no prende fuoco ah si si prende fuoco ti pizzo qua sulla nuvoletta hai una spada per ammazzare uno slime? quasi no veramente no aspetta che me la faccio no 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 ah comunque ho fatto un uno steal file uno steal un cacciavite di steal ahia vaffanculo tu ma no guarda andiamo a inizio dello spettacolo oh cristo santo ma perché ti hai chiesto c'è un cavallino bianco ma com'è che vorrei trovarmi ovunque tranne che qui non me lo spiego proprio se ti butti giù comunque ma persino sto cavallo sto diventando epiletico tipo è perché è da solo aspetta no 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 ma non si sparge diramandosi come una fottuta macchia d'olio tipo più una cosa sembra no vabbè oh madonna ecco adesso ma cosa cazzo bene direi che per questa puntata di random power possiamo anche chiuderla qua eh bene salutiamo le persone che hanno fatto parte di questa lega combricola di coglioni salutiamo vabbè mister vinbor che non tanto non saluta mai salutiamo non senti un leggero caldo stai zitto salutiamo ikimotors ciao salutiamo il giollaccio bella riga è dato che null'altro è rimasto da dire dai berro franzo adios a todos madonna santa fatemi andare a letto ok allora considerato che null'altro è rimasto da dire davvero è frutto proprio svogliato adios a todos ciao